L'incidente L'incidente ferroviario dell'Acquabella occorse poco dopo le ore 21 del 20 gennaio 1908 presso il Bivio Acquabella, posto circa due chilometri a est della vecchia stazione centrale, nei pressi dell'attuale piazzale Susa Milano. Coinvolse tre convogli ferroviari che si scontrarono a causa di un errore di segnalazione da parte di un addetto ai blocchi del Bivio. Nell'incidente persero la vita sette persone e 23 rimasero ferite. La tragedia suscitò grande commozione nella città di Milano ed ebbe grande eco sui mezzi di informazione del tempo. Fu anche fonte di cinque interrogazioni parlamentari rivolte all'allora Ministro dei Trasporti Pubblici del terzo governo Giolitti, Giulio Rubini. Alle ore 20 e 47 del 20 febbraio 1908 il treno Omnibus N2577 esercito dalle ferrovie dello Stato e in servizio dalla stazione centrale alla stazione di Bergamo via Treviglio lasciò Milano in orario con segnale di via libera e, superato il cavalcavia che attraversava l'attuale corso Buenos Aires e procedendo a velocità ridotta per via di alcuni lavori sulla massicciata e per una fitta nebbia che gravava sulla zona 2, giunse al video Acquabella, dove la strada ferrata si divideva nelle direzioni di Bergamo e di Roma. Trovato il segnale di via chiusa al blocco N3 dell'Acquabella, il macchinista arrestò il treno in attesa di ricevere via libera. Va osservato che il segnale di via chiusa non rientrava nelle normali aspettative del macchinista del treno, dato che il via libera ricevuto a Milano Centrale era solitamente segno che sia il blocco N2 che il blocco N3 del video Acquabella fossero aperti con via libera. Il macchinista attese il via libera ma, visto che il segnale tardava, egli scese dal convoglio e si diresse verso la postazione del blocchista per chiedere spiegazioni. Il blocchista, saputo che il treno era fermo, si affrettò ad assicurare che avrebbe dato via libera a breve, cosa che fece mentre il macchinista non era ancora tornato a bordo del treno 2577. Nel frattempo, alle ore 21.05 il direttissimo N25 Milano Parma Sarzana diretto a Roma aveva lasciato la centrale con il segnale di via libera e si era diretto a bassa velocità verso il video Acquabella dove avrebbe deviato verso sud in direzione Parma. Giunto in prossimità del blocco, trovò il segnale di via libera che nel frattempo era stato azionato dal blocchista del bivio Acquabella che era stato sollecitato dal macchinista del treno ma che non aveva atteso che l'omnibus per Bergamo riprendesse la corsa. Il direttissimo per Roma si trovò quindi la strada sbarrata dal treno 2577 che nella fitta nebbia non aveva potuto vedere e lo tamponò distruggendo l'ultimo vagone e danneggiando seriamente gli altri vagoni gremiti di viaggiatori. L'urto fu terribile e i due treni si ribaltarono sui binari uccidendo sette viaggiatori e ferendone 23. Immediatamente i superstiti si riversarono, abbandonando i treni, sul terrapieno che costeggiava la ferrovia in quel punto ma dopo pochissimo il treno accelerato n1426 in servizio da Genova Milano e proveniente da Voghera giunse sul secondo binario del bivio senza trovare nessun segnale di arresto e si schiantò contro la locomotiva del treno per Roma sul quale, fra gli altri, viaggiava l'allora ministro del tesoro del regno Paolo Carcano e alcuni senatori che uscirono però illesi dall'incidente. Dall'incidente scaturirno, come accennato, cinque interrogazioni parlamentari al ministro dei lavori pubblici Rubini, in carica nel terzo governo Giolitti. Nelle interrogazioni si chiedono rassicurazioni sullo stato del mantenimento delle giovani ferrovie dello Stato, nate tre anni prima, nel 1905. Sulle cause del disastro. Se non sia il caso di trasferire responsabilità importanti come quella ricoperta dai blocchisti al personale di riconosciuta competenza tecnica e non più ad agenti di umile categoria. Che decisioni abbia intenzione di prendere quel governo per evitare che simili disastri si potessero ripetere in futuro? Alle interrogazioni rispose, fra gli altri, il Giolitti stesso che spiega, in un lungo e articolato discorso, quali siano le condizioni operative delle nuove ferrovie di Stato e che ripercorre le difficoltà scaturite dal fatto che il servizio ferroviario, nato dall'acquisizione di tre società che esercivano quel servizio fino al 1905, soffriva ancora di materiale scarso e maltenuto e di personale demotivato e poco disciplinato. La trascrizione stenografica di quella seduca è consultabile nel documento citato in calce. Grazie a tutti!